C'è la nonna Guglielma che la mangiava così, con un po' di sale solo, l'olio non lavevamo. Poi la mangiava in un pugno così, lo solava un po', così faceva così. La lavava sotto la fontana, lì fuori. Cosa mangate Guglielma? Dice, io ho due o dieci, io ho la vecchia della fontana, io ho un criccello e sei doveva mangiare così. Ma io l'oliamo, l'olillo!